Musica Eccolo qua dunque l'abbiamo annunciato più volte e abbiamo il piacere di presentarti adesso ci sei davvero Sì, buongiorno, sono qua Cesare Cremonini, una curiosità ma lo sai l'ultima volta che ci siamo visti qua in radio quando è stata? credo che sia successo l'ultima volta che ho presentato un nuovo album quindi per possibili scenari può essere il 2018 ti vengo in aiuto il 5 dicembre 2017 esattamente due anni fa allora ho fatto bene a portare la torta manco l'avessimo studiata vedi ho fatto bene hai portato la torta? facciamo un brindisi con l'Ambrusco no io direi che d'ora in avanti potremmo scandire una sorta di Cremonini Day a cadenza ogni due anni ma praticamente è già così è già così anche se Leonello non viene neanche a salutarmi quando arrivo è vero perché forse è troppo abituato a farmi vedere qui per il resto io è come se fosse un Cremonini Day quando vi vedo nel senso che è un piacere partire da Bologna la mattina venire in casa è come andare dagli amici che meraviglia in queste settimane sono stato molto in giro in promozione a Milano eccetera eccetera e onestamente quello che provo quando vengo qui da voi o vicino insomma dove abito è sempre una sensazione di piacere maggiore ecco ci onora tantissimo quello che dici hai vinto tutto esatto ed è davvero un rituale per noi averti quando esce un nuovo album ci hai messo molto tempo per mettere insieme un The Best Of anche se non è un vero e proprio vent'anni circa The Best Of sì solitamente un Best Of è più importante se tu aspetti dai vent'anni in su a pubblicarne uno perché comunque riesci a mostrare e a far leggere al pubblico tutto quello che hai fatto come se fosse una lunga storia, un lungo romanzo ecco no perché questo album non è soltanto un insieme di hit è un po' un'autobiografia della mia vita che è stata quasi tutta ormai direi sopra il binario della musica e quindi è molto bello dopo vent'anni aver pubblicato questo Best Of vent'anni che tornano in qualche modo anche nella grafica di copertina perché si può leggere 2C, 2C ma se guardo la grafica sì è perché il 2020 è un anno numericamente diverso, graficamente diverso nel senso che il 2020 quando ero un bambino io me lo immaginavo con le macchine volanti mi immaginavo che sarei venuto a Radio Bruno volando col teletrasporto su una vespa volante che bello invece siamo qua per fortuna ben piantati con i piedi per terra e questo però non vuol dire che dentro il mio immaginario poter pubblicare un Best nel 2020 è un po' un sogno che si realizza insomma in realtà il futuro non era volando ma era sognando ancora mi piace molto allora Cesare premesso che questo non è un Best adesso ordinario non è una semplice raccolta di successi punto perché qui c'è un sacco di cose c'è anche il Cesare quello nascosto, quello intimo che normalmente è a beneficio di pochi eletti pochissimi devo dire perché qua quando si parla insomma delle registrazioni casalinghe quando si parla di demo ecco questo è un materiale faccio vedere anche tutto il materiale esatto normalmente viene custodito gelosamente quindi fatta questa premessa ci sono anche 6 inediti uno appunto l'abbiamo sentito in apertura è come se fosse un nuovo album da un certo punto di vista questa più che una raccolta è un raccolto no? cioè tu l'hai presentata questa come una sorta di inchino al tuo pubblico e quindi insomma sì perché in fin dei conti se sono qua dopo 20 anni di lavoro e sto per compiere 40 anni quindi diciamo che sono pieno della mia energia è anche grazie al fatto che c'è un pubblico che mi ha seguito fin dall'inizio e anche quando magari le cose non andavano benissimo perché comunque dal 2000 al 2010 c'è stato un lungo periodo di ricostruzione del mio progetto in cui ho puntato tutto sulle canzoni fondamentalmente e questo poi ha dato dei grandissimi frutti al giorno d'oggi stiamo per iniziare un grande tour negli stadi che finirà il 18 di luglio a Imola quindi nella nostra terra ed è un percorso il mio che non è mai stato scontato non mi è stato un po' regalato nulla ecco e questo dà valore sia alle persone che mi hanno sempre seguito e sia alle canzoni che è il mio repertorio che è il centro della mia vita voglio dire questo best cerca di spiegare come da 50 special a oggi in realtà non è che sia una penna maturata o migliorata la mia è semplicemente lo stesso sguardo che avevo da ragazzino fino ad oggi è la vita che è cambiata intorno a me che è cresciuta, si è diversificata ovviamente ed è cambiata anno dopo anno ma lo sguardo è sempre lo stesso avevo lo stesso sguardo anche quando ero ragazzino avevo questo modo di intendere la musica ecco mi piace molto anno dopo anno dici fra poco ascolteremo la tua versione dell'anno che verrà perché parlo di questo parlo di questo perché ci sono le luminarie di via D'Azeglio a Bologna sono state dedicate a Nessuno vuole essere Robin quest'anno a una canzone mia ovviamente l'emozione di ricevere questo omaggio è stata fortissima ti confido che il giorno dopo quando mi sono svegliato e ho rivisto le immagini mi sono commosso diciamo nel senso che lì ero un po' strappazzato destra e attivista c'erano 10.000 persone era un caos tremendo e quindi non sono riuscito nemmeno a stare troppo gli occhi verso il cielo sai che non fatico a crederlo anche perché poi lo scorso anno era il tributo a Lucio Dalla Lucio Dalla che inevitabilmente non lo sa e non se ne può rendere conto no no lo sa tu hai meno di 40 anni e puoi camminare sotto le parole delle tue canzoni in una città meravigliosa nel periodo di Natale deve essere qualcosa di forte io credo che sarebbe giusto che ogni anno ci fosse un artista bolognese o emiliano sicuramente bolognese sarebbe meglio premiato da questa emozione nel senso che quello a cui serve principalmente dal punto di vista culturale è ricordare che c'è una tradizione gloriosa musicale non solo cantautorale a Bologna e che va continuata va portata avanti si deve prendere anche la responsabilità di un omaggio come questo nel senso che non è che io vado a casa la sera dopo aver visto questa cosa magica e meravigliosa e semplicemente esulto e brindo con gli amici io mi prendo la responsabilità di meritarmelo in futuro hai messo tutta l'emozione di quella sera appunto facendo riferimento agli luminari in una lettera d'amore bellissima che hai scritto la tua città è vero hai messo delle parole veramente toccanti molto molto toccanti che facevano capire esattamente ero commosso mentre scrivevo quindi vengono fuori delle parole un pochino più commosse belle allora l'abbiamo nominata questa canzone l'anno che verrà la versione che Cesare Cremolini ha fatto sul palco del Stadio Dall'Ara l'estate scorsa era il 26 giugno appunto del 2018 davanti a un sacco di gente perché ce n'era di gente quella sera c'erano 50.000 persone in un posto che doveva tenere un po' di meno sai che a San Siro non c'è più posto ho provato a trovare due biglietti numerati vicini è per quello che abbiamo fatto Imola perché Imola è sconfinata è più grande c'è tanto spazio chiunque non riesca a venire a vederci a San Siro può venire Imola sarà un sogno ricordiamo di nuovo la data il 18 luglio il 18 luglio sarà la data conclusiva del tour estivo di Cesare negli Stadi Italiani nella prossima estate sul quale magari torneremo più tardi ma adesso è il momento di ascoltarci l'anno che verrà versione di Cesare Cremolini live ecco sfogliando il booklet che è all'interno di questa confezione è una delle varie connessioni con le quali si presenta questa tua raccolta c'è una foto che racconta molto bene le emozioni di quella sera allo Stadio Dall'Ara c'è un fitto di gente, un fitto di testine c'era anche il mio babbo quella sera a vedermi quella foto lì l'ho messa nel best proprio perché mi ricordava questi momenti bellissimi in cui Bologna era un abbraccio era un abbraccio bellissimo e io abbracciavo questa città che amo follemente in cui vivo e continuerò a vivere mi abbracciavo anche in qualche maniera tutti i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia, la mia città era diverso dagli altri concerti quel concerto era un concerto che resterà nella mia memoria e probabilmente anche nella memoria di tante persone che sono venute con un grande abbraccio fra me e la mia città c'ero anch'io tra l'altro bellissimo, bellissimo, magico davvero tra l'altro un anno importante anche da questo punto di vista perché il tuo papà se n'è andato il papà di padre e madre avevi trovato il modo di entrare più in contatto con lui nell'ultimo periodo o siete sempre rimasti un po' con questa distanza dei mille anni? No, siamo cambiati ovviamente da quando ho scritto quella canzone il rapporto era cambiato molto eravamo molto più vicini più cresco e più gli assomiglio quindi in qualche maniera è come se avessi il dovere e l'onore di portare i suoi geni e quindi sono molto sono felice alla fine di aver fatto un mestiere diverso dal suo perché sennò sarebbe stato un continuo paragone mio papà era un medico apprezzatissimo amatissimo e io sono un cantante quindi posso portare avanti i suoi insegnamenti ma applicandoli a una branchia diversa perché poi alla fine mi rendo conto che sono molto simile a lui lui è in un ambulatorio, io sono sul palco ma siamo molto simili se lo avessi conosciuto noteresti queste similitudini bello allora Cesare ci fermiamo un attimo perché abbiamo bisogno di manare un pochino di pubblicità poi torneremo con una canzone bellissima ci bevamo un caffè? dai la canzone c'è scritto qui la canzone è Nessuno vuole essere Robin quella lì dopo? sì quindi chi ama questa canzone deve rimanere assolutamente all'ascolto andate a bere un caffè anche voi io vado a bere un caffè con i miei amici di Radio Bruno dai ciao nessuno vuole essere Robin di nuovo su Radio Bruno in diretta con Cesare Cremonini ciao Cesare buongiorno e ben ritrovati eccoci di nuovo me la sono anche ballata un po' abbracciata a lui questa canzone lo dico a Daniela e altre hanno la fortuna di ballarla con me Robin sta facendo di tutto per fare incacchiare sta facendo di tutto per fare incacchiare le tue fan che sono all'ascolto e che naturalmente non hanno la minima possibilità di farla è che te siamo amici da tanto tempo quindi tu hai ballato con me che io ancora eri da denuncia sì esatto era quasi minorenne per moleste da minorenne perché lui con i Luna Pop lo diciamo nel 2000 ha iniziato a venire a Radio Bruno Estate con Walter Mameli che ancora oggi è qui insieme a lui eravamo piccoli noi eravate piccoli anche voi sì ero più giovane anch'io esatto ma la radio in sé anche dai messaggi che arrivano vent'anni di crescita in sé vi ricordate quando Radio Bruno si trasmetteva da una cocomeraia qui fuori? quasi vi ricordate? cocomeraia ecco come era quando vendevate i cocomeri e con l'antenna e adesso avete questa bellissima radio che mi dicono essere la più forte d'Europa no non d'Europa ma delle pianure d'Europa quindi essendo la pianura padana una delle più grandi pianure d'Europa possiamo dire che siete una delle radio più importanti d'Europa evviva mi piace diciamo che facciamo la nostra figura teniamo tutti questi pezzi esatto poi nei momenti di sconforto riascoltiamo Cesare Cremonini le prime canzoni le hai scritte a 15-18 anni se focalizzi un momento di quel periodo abbiamo ricordato anche che sei arrivato insomma nel 2000 già sui palchi avevamo la security che doveva tenere ferme le ragazzine che impazzivano ti ricordi che venivamo a fare le feste bellissime di Radio Bruno il biondino dei luna pop ti chiamavano esatto 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 la cosa bella di quel periodo è che ogni volta che venivo a fare una festa della radio il mio nome era nel cartellone era da piccolino ogni settimana diventava sempre più in alto fino a quando l'ho visto in cima ed ero il light liner come si dice e chiudevi tu ho a casa un fogliettino di una festa di Radio Bruno del 99-2000 proprio durante quell'estate lì in cui ero piccolino piccolino là in fondo in fondo in fondo alla lista bello e no se devo fermare una fotografia una polaroid di quel periodo cioè di quando ho iniziato a scrivere le prime canzoni della mia vita è mio padre che entra in camera mentre sto registrando e si lamenta perché non studio dai sì quella porta lì era il mio incubo perché io volevo continuare a scrivere canzoni e registrarle in questo piccolo multitrace che avevo a casa e lo facevo e nascevano quelle canzoni tipo 50 special un giorno migliore qualcosa di grande vorrei erano le prime canzoni che stavo mettendo insieme nella mia vita lo facevo nella mia cameretta e avevo l'incubo la paura il timore tremendo che entrasse mio padre e mi dicesse stai studiando e io quindi quando sentivo i passi del corridoio arrivare nascondevo tutti gli arnesi sì sì mi mettevo ai libri a studiare cioè poi è stato lui a farti suonare il piano eh diamogli il merito beh i miei genitori in generale mi hanno costretto a studiare il pianoforte quando ero un bimbo perché sai a sei anni comunque già erano una famiglia che era piuttosto severa e poi dopo dovevi aggiungere cinque ore di studio al giorno di pianoforte con le lezioni di pianoforte in quell'età lì non è che era proprio il massimo tutto cambia quando hai 11-12 anni inizi a suonare e ti accorgi che le ragazzine sono più interessate a chi suona e rispetto a chi gioca a calcio è vero quindi fare 130 palleggi senza far mai cadere il pallone è divertente ti senti figo ma non produce non aiuta non aiuta l'evoluzione della specie senti ma tuo papà a parte di scherzi ha mai creduto in fondo che tu potessi diventare un giorno quello che sei diventato ha sempre sottovalutato la possibilità che tu andassi incontro ad una carriera fantastica quando hai in casa un bimbo come me il concetto va oltre il ce la farà o no cioè uno dice direttamente questo è pazzo ti rassegna l'idea che devi comunque lasciarli fare sì perché ero talmente tanto ossessivo ma talmente tanto ossessivo nei confronti della musica fin da quel periodo cioè io incolpavo i miei genitori quando mia mamma non voleva portarmi perché pioveva o faceva freddo io ero malato alle prove con il gruppo io la minacciavo con un dito e dicevo per questa cosa io non diventerò mai famoso no proprio così con l'aria stizzita e diceva questo è pazzo portatelo un mitomane portatelo perché questo è un mitomane dategli sempre ragione e secondatelo che può anche diventare pericoloso Cesare si parla tanto d'amore nelle tue canzoni l'amore viene e va nella vita di tutti anche nella tua vita evidentemente ora è il momento in cui l'amore arriva l'amore è arrivato e porca miseria si è arrivato l'amore è sempre giovane è anche un po' stupido quando arriva soprattutto se lei ha 22 anni si fa a Martina e ti sconvolge un po' la vita era più giovane che tu abbia avuto? adesso in realtà ne ha 23 è perché non mi ricordavo l'ho detto in radio due giorni fa ma non mi ricordavo quanti anni aveva la mia ragazza quindi ti ha pure cazziato? no no lei non mi cazza non ti ricordi nemmeno quanti anni ho? ma l'età neanche lei sa quanti anni ho mio padre mi diceva sempre quando diceva babbo babbo quanti anni hai? e gli diceva eh non te lo posso dire non lo so neanche io è così e ti ho detto io sono uguale a lui è tutto relativo però diciamo che il gap culturale è importante perché in questi 20 anni è successo diciamolo un po' di tutto lei c'è nata 23 anni fa sì sì ecco la fortuna di questo gap culturale diverso è che quando io sono uscito con il Luna babbo aveva due anni quindi fondamentalmente non sa niente di me ti reinventa quindi tutti dicono eh beh è facile mettersi insieme a una ragazza più giovane che sicuramente sta con te perché sei famoso no guarda non sa niente di me cioè non ha idea lei non sa nemmeno non sa 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 le mie canzoni quando l'ho incontrata ecco ho dovuto scriverne una per lei perché ne imparasse una ascolta persino la trap esatto certo che scrivere una canzone d'amore è titolare la giovane stupida come ha presa? può sembrare un po' originale forse anche un po' troppo beh innanzitutto è una canzone d'amore molto romantica giovane stupida è una canzone che racconta di un uomo che inizialmente non vuole cedere all'idea di stare con qualcuno che magari solo perché è più giovane dice ma non abbiamo niente da dirci eccetera eccetera e poi invece si ritrova in ginocchio di fronte a una ragazza a dirle che l'ha ama follemente quindi è una storia d'amore da brivido se fosse un film sarebbe un film non stupido le canzoni solitamente nei titoli traggono più in inganno è vero come i titoli dei giornali no bisogna approfondire giovane stupida è una canzone molto romantica in realtà anche molto ironico ovviamente non c'è niente di più buffo di ironico di un uomo che se la crede talmente tanto da pensare di non poter stare insieme ad un'altra persona solo per l'età ecco allora io approfondirei ascoltando ce l'ascoltiamo altro inedito uno dei sei inediti dal Greatest Tits di Cesare Cremonini giovane stupida lo ripete scherzando alla fine questa è un'altra nuova canzone di Cesare che ha messo in questa grande raccolta sì mi piace questo sound un po' 70 così mi diverte me l'immagino dal vivo e penso che diventerà un bel singolo per il tour questo sì come chi è Mick Jagger canti ma come chi è Mick Jagger ma come chi è Joe Coker anche questo è il gap ma come chi è Batman ma come chi è Roberto Baggio ma non lo sa davvero ma come chi è Lily Gruber quindi diventi un maestro di vita tu a questo punto in realtà la canzone è veramente una canzone davvero decisamente umile nei confronti dell'amore è un gioco ripeto è un piccolo film pensa l'ho interpretato da Woody Allen o da Woody Allen che lei non conosce probabilmente esatto ma come chi è Woody Allen ma poi tra l'altro però insomma organizzati perché ci sono un po' di cose da spiegare ieri guardavo un film di Verdone erano le due di notte dovevo venire da voi e non riuscivo a dormire dall'emozione e guardavo questo film di Verdone e mi immaginavo proprio Verdone che esce con una ragazza più giovane e avrebbe gli stessi problemi voglio dire del protagonista di questa canzone cioè è una canzone estremamente ironica e un po' cinematografica ecco ti senti un po' a Verdone ma in quale personaggio? quello di un sacco bello? speriamo perché adesso Verdone ha qualche anno più di me quindi speriamo di tornare un po' indietro nel tempo Cesare siamo alla fine di questa chiacchierata dobbiamo però ricordare il tour dell'anno prossimo perché l'anno scorso abbiamo rotto il ghiaccio hai rotto il ghiaccio guarda il tour negli stadi e Ale adesso ha stappato il bocciolo Imola 18 luglio un passo alla volta ovviamente nel senso che come tutti sanno il mio sogno era da sempre da quando ho un bambino di fare concerti negli stadi è stato mi sento veramente libero e felice quando sono su quei parchi e il 21 di giugno noi a Lignano inizieremo un nuovo tour saranno 7 stadi più Imola più l'autodromo di Imola il 27 giugno saremo a Milano ormai i biglietti stanno esaurendo il 30 giugno a Padova e andrò per la prima volta nello stadio di Padova quindi ci sono stato solo in trasferta con il Bologna quindi sarà una grande emozione il 4 luglio a Torino anche questa è la prima volta Firenze allo stadio a Franchi il 7 luglio il 10 di luglio saremo a Roma il 14 luglio a Bari che bello che andiamo in Puglia dove abbiamo fatto tre concerti bellissimi due anni fa nel Palasporte e poi chiuderemo questo appuntamento perché voglio chiamarlo esattamente così è un grande appuntamento il 18 luglio all'autodromo internazionale Enzo Dino Ferrari di Imola quindi sarà come dire abbiamo abbracciato Bologna al Dallara due anni fa questa volta cerchiamo di allargare ancora di più l'abbraccio abbracciamo tutta l'Emilia Romagna ci piace moltissimo velocemente Natale Capodanno in zona o lontano? credo che sarò come sempre Natale come mia mamma e mio fratello e poi dopo farò una settimana 10 giorni di vacanza cercando un po' di caldo e poi dopo sarò di nuovo qua perché la lunga strada verso gli stadi è appena cominciata grazie Cesare è stato un grande piacere un onore per me un onore per me grazie a tutti gli amici di Radio Bruno siamo vicini di casa evviva dobbiamo ricordarcelo sempre un abbraccio grande ciao ciao Cesare grazie Radio Bruno